vai vai allora 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 no 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 no, scorrete, scorrete! lancia! Lancia cosa? Fac... lanciate lanciate non deve essere oh tu entri, oh tu entri, oh tu entri dai 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 dietro nooo ne andò 3 ore per per fare roba no 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 piglia non piglia non piglia allora non è morto è morto scondamento scondamento in calzo scondamento vai dancio nel lancio che ti io vado dai vai allora bp ad ascoltarmi quando c'è sopra il lancio tu devi andare lì sotto fare il tornamento prendo questa a quanto pare no 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 e mi sa mi sa il cazzo mi sa te lo vedo io Vedi qualcuno c'è stato su, vedi qualcuno, no, vedi qualcuno? Posso prendere questa? Aspetta, vedo non andare in cura No, 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 tranquilla, non ci ho fatto il culo prima Oh, ma che cazzo! Spero che stai in difesa, però devi stai Vai, vai Pippi, vai in avanti, te la lancio No, 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 ho vedi ve la Vai, vai Ho un'idea